Marco Bianchi, siamo arrivati al calare del sipario di questa rassegna, un bilancio? Bilancio positivo sia in termini di pubblico, sia in termini di indice di gravimento dei spettacoli, sono stati tutti spettacoli ben scelti, azzeccati e molto apprezzati dal nostro pubblico, che si è presentato numeroso, cavoroso come sempre, anzi quest'anno qualcosa di più, e siamo riusciti a dare al nostro pubblico degli spettacoli per arrivare dalla quotidianità, queste sono le informazioni che ho raccolto, tutte le varie notizie che il nostro pubblico ci ha dato, in merito a quello che ha visto nelle varie serie che ci sono state. Gli spettacoli più apprezzati? Gli spettacoli più apprezzati sicuramente sono stati Ettore Bassi con Sindaco Pescatore, ultimo in data, ma anche Fra, Scifoni, che è stato, ha avuto proprio il pieno, tutto esaurito. I legianesi? I legianesi che hanno aperto la stagione, cevoli, ma insomma, direi tutti gli spettacoli sono stati apprezzati, e quindi questo ci dà molto orgoglio, insomma, molta voglia, ci stimola, ci fa, insomma, piacere, e sicuramente, posso già preannunciare, che avremo una prossima stagione teatrale, che posso dirvi inizierà il 3 ottobre del 2024. 3 ottobre o 3 novembre? 3 ottobre, iniziamo il 3 ottobre. 3 ottobre? Siamo abbastanza vicini, ma non vicinissimi. 3 ottobre poi il calendario lo pubblicheremo, strada facendo, non ce l'abbiamo ancora sotto mano, ci stiamo pensando, ma una data c'è già, 3 ottobre. 3 ottobre